Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono 4 km di coda per incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Bologna. Sulla Fipili per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Scandicci e l'allacciamento A1 di Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. La viabilità cittadina a Firenze in via del Giardino Serristori per lavori, fino al 5 settembre strada interrotta nel tratto San Nicolò-Renai. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!